Oggi ti farò conoscere 5 canzoni che a me piacciono molto. Questo video è la continuazione di quest'altro, in cui ho parlato di altre 5 canzoni. Sei su Italiano con Eli, il canale pensato per chi vuole imparare o migliorare il proprio italiano. Qui troverai molte video-lezioni sulla lingua, sulla cultura e su come imparare l'italiano in modo efficace. Niente male, vero? Ti consiglio di prendere in considerazione l'idea di iscriverti e, mi raccomando, attiva anche la campanella, così riceverai una notifica ogni volta che un nuovo video è disponibile. Benvenuto o benvenuta a Italiano con Eli. Io mi chiamo Elisabetta, sono una language coach e da molti anni insegno la lingua e la cultura italiana. Oggi vorrei farti conoscere 5 canzoni che a me piacciono tanto. Ti farò conoscere anche 5 cantanti che non puoi non conoscere. Iniziamo con una canzone di Mia Martini, una delle voci italiane più amate di sempre. Mia Martini è stata una cantante dalla vita privata molto travagliata, molto tormentata. Se vuoi sapere di più sulla sua vita ti consiglio di guardare Io sono Mia, che è una fiction che è stata fatta dalla Rai nel 2019. La canzone di cui ti vorrei parlare è Solo tu nell'universo e vorrei farti conoscere anche parte del testo di questa canzone. Tu, tu che sei diverso, almeno tu nell'universo, un punto sei che non ruota mai intorno a me, Un sole che splende per me soltanto come un diamante in mezzo al cuore. Questa canzone deve essere ascoltata, trasmette delle emozioni che sono profondissime. Ti consiglio anche di ascoltare Minuetto, Gli uomini non cambiano e, infine, e non finisce mica il cielo. Anche il secondo è un brano intramontabile e senza tempo. Si tratta di Caruso, di Lucio Dalla. Brano che è stato ispirato proprio dalla storia di Enrico Caruso, che è stato un grandissimo tenore italiano. Ed è molto particolare la storia di questa canzone. Dalla rimase una notte a Sorrento, proprio nell'albergo che aveva ospitato anni prima Caruso, negli ultimi anni della propria vita, e parlando con il proprietario venne a conoscere la vita di Caruso. Ne fu così ispirato che decise quella sera stessa di comporre questa meravigliosa canzone. L'inizio è famosissimo. Qui dove il mare luccica e tira forte il vento su una vecchia terrazza davanti al golfo di Sorrento. Ci sono molte altre canzoni di Lucio Dalla che dovresti conoscere. In particolar modo ti consiglio L'anno che verrà, canzone che io adoro, 4 marzo 43 e anche Piazza Grande. Passiamo ora a una canzone di nicchia che molto probabilmente parecchie persone italiane non conoscono. Si tratta di In questo preciso momento di Gio Barbieri che è un cantautore napoletano. Leggiamo parte del testo. In questo preciso momento ti renderai conto da sola che il tempo in realtà non consola ma ti grida forte la sua verità. Come sai ho parlato di questa canzone anche nella mia newsletter ed è una canzone che appunto a me piace molto. Ci sono però anche altri brani che ti consiglio sempre di questo cantautore. Per esempio Fammi tremare i polsi, Pura ambra ed anche Sia. La quarta canzone di cui ho deciso di parlarti è Bella Senz'anima di Riccardo Cocciante. Leggiamo parte del testo. È tanto tempo che volevo dirtelo. Vivere insieme a te è stato inutile. Immagino che tu quindi capisca di che cosa parla la canzone. Ti consiglio di ascoltare la versione originale di Cocciante ma anche quella di una giovane cantante italiana che si chiama Emma che ha una voce meravigliosa. La versione di Emma mi piace molto. Altre canzoni di Cocciante sono Margherita, Se stiamo insieme che è proprio un classico della canzone italiana e anche quando finisce un amore. Chiudiamo in bellezza con un brano molto vivace di Rino Gaetano. Il brano si chiama Ma il cielo è sempre più blu. Di questo stesso cantante ti consiglio di ascoltare anche Aida e Gianna e in particolar modo ti consiglio di cercare la versione di 50 artisti, versione che è stata creata proprio quest'anno durante l'emergenza Covid-19. 50 artisti hanno registrato questa versione a distanza e i diritti del brano sono andrati alla Croce Rossa. Se vedrai il video avrai modo di conoscere molti altri cantanti italiani, molti dei quali sono davvero conosciuti. Allora, che ne dici delle canzoni che ti ho proposto oggi? Fammi sapere che cosa ne pensi nei commenti. Ti è piaciuto questo video? Se così fosse ti chiedo di mettere un mi piace e di condividere il video con i tuoi amici. E naturalmente, se non ti fossi ancora iscritto o iscritta al canale, ti invito a farlo. Trasforma il tuo sogno italiano in realtà. Grazie dell'attenzione! Ci vediamo la prossima volta sempre su Italiano con Eli! Grazie a tutti!